ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti perché c'erano degli sconti e perché c'erano dei prodotti che sinceramente volevo utilizzare e provare perché veramente mi servivano tantissimo e sto parlando di Sephora ho fatto alcuni acquisti ho fatto alcuni acquisti online e un acquisto per quanto riguarda il beauty store allora vi do prima quello che ho comprato nel beauty store ho preso un rossetto di Uda Beauty ne ho 5 con questo siamo arrivati a 6 brava Stefania in matematica e se volete poi un video per quanto riguarda gli swatch o rossetti di Uda Beauty poi ve lo farò ovviamente questo si chiama ladies night che è questo e sinceramente mi è piaciuto così tanto perché la ragazza l'ha swatchato sulla velina e quindi l'ho voluto prendere mi è piaciuto veramente tanto 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 il colore è questo ed è mui 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 bello mui 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 bello muo quanto è bello quando è bello 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 di mamma e a me piacciono tantissimo i rossetti di Uda Beauty proprio ve lo dico sincera 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 e il colore è questo ciao ciao caro ciao molto molto bello scrivenza ottima io mi ci ho messo con questi rossetti e quindi li ho voluti prendere proprio perché so che sono dei buoni rossetti e questo è il primo poi arriviamo al tasto dolente ho fatto due o tre ordini per quanto riguarda sefora perché c'erano vari sconti ma perché volevo prendere assolutamente a prescindere da tutto il resto un prodotto perché era scontato da 35 veniva 20 euro quindi lo volevo prendere assolutamente si tratta di questo un illuminante di fenty beauty soltanto questa colorazione era scontata ma era scontata solo nel sito quindi dal sito quindi dovevo assolutamente fare l'ordine direttamente nel sito io l'ho fatto proprio per prendere questo prodotto poi gli ho messo alcune cose in più ma perché sinceramente doveva arrivare solo questo io ho messo altre due cose l'imballaggio faceva cagare proprio ve lo dico proprio con un una dialettica leggera leggera faceva veramente schifo infatti vedete come mi è arrivato questo è ginger bingy e moskov mull il prodotto in questione è questo e vi faccio vedere proprio come è arrivato che già si vede ovviamente questo è il prodotto come vedete questo lato è intatto l'altro lato è un pochettino un pochettino la metà sbriciolato ora questo prodotto io l'ho preso a 19 euro e 90 quindi a 20 euro ho chiesto il rimborso perché mi sembrava inutile ridarlo e riceverne un altro avevo chiesto il rimborso quindi da 19 euro mi aspettavo 19 euro invece no mi hanno dato 16 euro ho chiesto il motivo e loro mi hanno spiegato perché la cialda non è letteralmente tutta rotta questa è una paraculata come si dice che è sbagliata nei confronti di persone che i soldi li danno tutti in generale sono rimasta malissimo perché questa cosa mi era successa con nabla nabla mi ha fatto tenere il prodotto danneggiato ma ne ha mandato un altro nuovo intatto perché sapevano che il loro blush era molto fragile poi l'imballaggio era quello che era e il prodotto è arrivato rotto loro non mi hanno detto mi mandi il prodotto o altro mi hanno soltanto detto non si preoccupi li manderemo subito il prodotto nuovo cioè e considerate che io non sono nessuno quindi non sono una youtuber famosa che con me ci devono mangiare tutto quindi se io ho un gesto del genere in un brand piccolissimo mi aspetto una cosa un po' più elevata per quanto riguarda una società tra virgolette come la sephora quindi ci sono rimasta veramente malissimo andiamo avanti perché non voglio veramente perdermi in queste cavolate allora mi hanno dato questa brochure non voglio essere nervosa nel farvi il video ma sinceramente ci sono rimasta male mi hanno dato il solito campioncino di profumo che già ha la sua proprietaria mi hanno dato questo campioncino di fondotinta di Make Up For Ever HD e poi mi hanno dato questa crema della Shiseido allora cosa ho preso ho preso due prodotti uno è questo ed è lo stick di Sol de Janeiro questo l'ho preso perché per quanto riguarda i tatuaggi lo potete utilizzare dove volete nel senso potete utilizzare sia sul viso sia sulle labbra e sia sui tatuaggi io sinceramente quello delle labbra già ce l'ho sempre Sol de Janeiro che fa un profumo pazzesco la candela, la crema, ottimo questa profumazione con il giallo a me piace tantissimo io lo volevo prendere solo ed esclusivamente per i tatuaggi siccome avevo fatto il tatuaggio nuovo quello che avete visto qua che è dedicato alla mia migliore amica automaticamente ho pensato per il prossimo anno di proteggerlo perché ormai quest'anno abbiamo anche finito quindi lo utilizzerò per il prossimo anno non ve lo apro, ve lo faccio vedere lo stick ma è come si vede qui nella confezione che è questo qui e il prossimo anno lo utilizzerò quindi quando esco lo metterò perché dobbiamo anche proteggere i tatuaggi poi per la mia ricerca di matita nera che scrive all'interno dell'occhio ho preso questo set della Clinique l'Alizia aveva detto che le matite della Clinique sono buone quindi io piano piano mentre ci sono nei set li voglio prendere ho preso questo che ha il take the day off il barattolino questo qui che sarebbe il burro struccante che io ho anche nella versione grande poi ha una matita nera per l'interno dell'occhio e un mascara allora per quanto riguarda il take the day off è nella confezione piccolina sinceramente questa se andate in viaggio o tutto me la potete portare tipo andate al fidanzato vi dovete portare qualcosa nella pochette sinceramente è buona perché è piccolina perché l'altro è un barattolo così poi abbiamo il mascara che non apro perché ne ho quattro già da utilizzare e vediamo la matita la matita è la 09 Intense Ebony vediamo com'è la scrivenza è buona devo dire mi sembra anche buona la scrivenza la proviamo la mettiamo nel reparto delle matite nere perché qui abbiamo anche il reparto delle matite nere e quindi andiamo avanti andiamo all'altro ordine che ho fatto che è quello più succoso e ho preso varie cose allora mi sono fatta la cartolina perché me le sono auto regalate regalate quindi auguri alla mamma che sarei io allora cosa mi hanno dato le gocce queste qui di collistario c'ho il barattolino la boccettina scusate io ho la boccettina ma ancora non le ho utilizzate perché avevo paura che mi macchiasse la pelle visto che ho un colorito molto molto chiaro però ho visto betty che li utilizza e si trova benissimo quindi li voglio utilizzare anch'io poi mi hanno dato un'altra volta studio plian del cavolo e poi mi hanno dato questo della garlène pari credo non lo so se è una crema profumata che è questa che poi la regalo ovviamente ah un altro profumo my way e poi ah questa volta di più campiongino wow e poi questo di sephora di nuovo un fondotinta della make up forever questo non vuole non vuole perché si è incazzata anche lei ecco cosa ho preso cosa ho potuto mai prendere allora ho ripreso il pennello per quanto riguarda il correttore perché essendo uno me lo perdo me lo perdo perché scappa 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 non è vero ho ripreso di nuovo il pennello per quanto riguarda il correttore perché mi sono trovata benissimo e quindi ne volevo uno proprio per metterlo sempre qui nella postazione così ne ho due quando è sporco uno l'altro pulito e viceversa e quindi l'ho voluto prendere mi trovo benissimo l'ho utilizzato anche oggi il fratellino gemello è un ottimo pennello per quanto riguarda il correttore se prendetelo prendetelo ad occhi chiusi questi io li ho presi con i prezzi sexy più uno sconto che c'era in quel periodo adesso non me lo ricordo se trovo nel cellulare tutta la procedura poi vi metterò i vari prezzi nell'info box poi cosa ho preso sempre per quanto riguarda le matite le matite nere per l'interno dell'occhio che sono scriventi ho preso questa qui dell'urban decay ho preso questo perché aveva anche la pochettina ed è urban decay 24 set per vision 24 e mezzo boh mascara e una eye pencil duo quindi vediamo com'è la confezione si trova in questa confezione plastificata ovviamente con il logo urban decay molto carina questa cosa e touch ha una clip e qua dentro avete il prodotto riesco non ci riesco non ci riesco comunque vabbè la esco così avete un mascara ok il mascara questo qui per version di urban decay che non apro ovviamente e la matita nera per version facciamo lo swatch wow che nero bellissima sarebbe questa qua molto molto bella questa va nella collezione per quanto riguarda le matite nere e poi ovviamente utilizzerò il mascara appena finirò di utilizzare gli altri non ci riesco vabbè poi lo lo sposto non ci riesco poi cosa ho preso c'era scontato il la matita se non mi sbaglio è la cake pencil di KVD Beauty di Kat Von D qua parola insegnata quindi qui ancora era Kat Von D e sinceramente non avevo visto che era così piccola se no non l'avrei presa e siccome era scontata l'ho voluta prendere ho detto una matita nera una tatuatrice che metto una matita nera sarà la migliore in assoluto e quindi l'ho voluta prendere questa qui piccola non avevo letto la grammatura sinceramente ha sei mesi di scadenza questa è una matita per gli occhi cosa la quantità vediamo se c'è scritta la quantità 0,24 grammi wow la matita è questa vediamo quant'è insomma questa è la matita devo dire che che carina la matita vediamo la scrivenza ovviamente si tratta tutto di vabbè buona questa qua sotto devo dire che scrive scrive bene allora tutte le matite che ho preso sono tutte di un nero abbastanza forte quindi proviamo anche questa e vediamo se scrive all'interno dell'occhio se scrive all'interno dell'occhio e mi rimane io comprerò la cercherò ovviamente la matita quella più grande e la acquisterò sempre poi erano scontati i due balsami labbra di Huda Beauty questi qua io ne avevo preso uno che sarebbe questo ed è nella colorazione è dirti Tug Tugs e poi ho preso le altre due colorazioni che sono Negligé e Sedactress che sarebbero queste è che sono rosa scritte vabbè sono rosa comunque sono le stesse identiche di questo ve li apro per farveli vedere questi li metto in borsa quando tipo sei al ristorante sapete balsami labbra e tutto l'uscita c'è il packaging e già ehi che te lo dico a fa ed è di questo colorino rosa molto molto bello e l'altro è questo che è Negligé ed è questo colorino tipo sul beige malva beige adesso ve li faccio vedere tutti aperti aspettate un minuto questi ovviamente sono dei balsami labbra non è che colorano le labbra hanno soltanto un diciamo un finish normale lucido e questi sono quelli che io posseggo sarebbero tutte e tre ho detto non lasciarlo da solo fratellino sono tutti gemelli e quindi l'ho voluto prendere quindi questo tipo sul viola questo sul pesca e questo sul top questo qui sono molto molto belli ho utilizzato il primo ovviamente perché già ce l'avevo cioè è buono devo dire che mi piace come balsamo labbra lo preferisco diciamo in borsa perché diciamo è più particolare sapete quando siete in giro vi mettete il balsamo labbra sinceramente è una cosa più particolare però devo dire che sono buone poi ho preso un prodotto che già avevo testato che avevo fatto il video e si tratta del fondotinta hello happy sinceramente mi sono trovata bene con il campioncino questo era scontato la mia colorazione era scontata che sarebbe la numero uno e quindi l'ho voluto prendere ho voluto proprio prendere il fondotinta di benefit e sinceramente mi è piaciuto questo è nella confezione mini perché era scontato solo quello nella confezione mini e quindi l'ho voluto prendere sinceramente non ho voluto prendere la confezione grande soltanto perché almeno lo utilizzo solo di finirlo perché è piccolino e così posso utilizzare anche altri fondotinta e variare tra virgolette la scelta per quanto riguarda i fondotinta io ho una playlist dove aggiorno ovviamente tutti i fondotinta che acquisto che provo per farvi una recensione per quanto riguarda la mia tipologia di pelle il mio colorito e proprio per farvi capire che colore ho che texture mi piace non mi piace anche per aiutarci reciprocamente per quanto riguarda l'acquisto di fondotinta online perché è sempre cioè io di norma non ci azzecco mai quando li prendo online quindi figuriamoci almeno così ci possiamo anche aiutare se abbiamo lo stesso colore la stessa tipologia di pelle e tutto a proposito di fondotinta ne ho presi due uno di becca e uno di kat von di sempre che vi di beauty quello che volete voi questi allora vi dico cosa ho preso ho preso il fondotinta di becca quello di acqua luminos perfection foundation nella colorazione fair questi sono 30 ml di prodotto è un fondotinta loro dicono leggero adatto a una pelle matura e quindi ho voluto prendere questo è in vetro e l'apertura è quella scatto vedete poi voi pigiate il pulsantino e poi lo aprite ed esce il prodotto ed è questo adesso vi faccio lo swatch perché io ho preso questa colorazione non lo so se è buona credo forse leggermente più scura del mio colorito perché ho preso questa colorazione oltre che era scontata ho preso questa colorazione per miscelare con alcuni fondotinta che io posseggo questo poi ve lo dirò strada facendo perché ho intenzione di fare alcuni video proprio in questa per questa situazione per sistemare i fondotinta e tutto quindi poi vi farò un video perché non lo so se già l'ho fatto questo video quando voi vedrete questo allora vi ho detto questo è una colorazione fair ed è 30 ml allora io lo vedo abbastanza scuro per quanto mi riguarda poi ovviamente messo sulla mano è una cosa messo sul viso è tutta un'altra cosa io la prima cosa che farò lo applicherò direttamente sul viso vedo se è più scuro più chiaro del mio colorito e poi vedrete e poi vedrete in futuro quello che io combinerò poi un'altra cosa che l'ho preso sempre per la stessa situazione è il fondotinta di Kate With Beauty Kat Von D ho preso nella colorazione 004 light io non lo so se questo è un colore che mi può star bene sinceramente questo deve essere shakerato prima di utilizzarlo perché lo vedete anche qua questo l'ho preso chiaro perché era scontato proprio ho preso la colorazione più chiara che era scontata perché la voglio utilizzare per sistemare i fondotinta leggermente più scuri essendo anche molto molto liquido sono sicura che mi aiuterà tantissimo per quanto riguarda i fondotinta scuri vedete ne è uscito una quintalata una quintalata aspetta che non era shakerato bene quindi ne è uscito tanto non lo so se si no si vede si vede qua è bianco vedete questo è quello di Becca e questo è quello di Kat Von D l'ho preso così chiaro proprio per miscelarlo perché l'altra volta l'altra volta quando ho fatto il video per quanto riguarda una marca il fondotinta che avevo acquistato era troppo scuro e quindi non sono riuscita per quanto riguarda Rude Cosmetics se non mi sbaglio non sono riuscita a mettere il fondotinta perché era veramente era troppo scuro cosa ho fatto ho utilizzato il fondotinta quello di Essence nella colorazione 10 quello là nella bottiglietta piccola mettendolo così sono riuscita a utilizzare quel fondotinta e devo dire che mi è anche piaciuto quindi ottima idea quindi questo è tutto quello che io ho acquistato per quanto riguarda Sephora ci sono rimasta male per quello che mi è successo e sinceramente vi dico state attenti infatti per quanto riguarda il calendario d'avvento sinceramente non lo volevo prendere oltre che hanno ho gli stessi prodotti quindi me lo posso anche fare qui direttamente nella mia postazione il calendario e poi sinceramente ricevere il prodotto rotto dopo 100 rotti euro di calendario sinceramente non mi va assolutamente che dirvi spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e ditemi giù nei commenti se anche voi sbagliate sempre per quanto riguarda il fondotinta e se avete altre matite nere da consigliarmi io sono tutto orecchie per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao